Nella recente puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri e Paolo Masella sono stati i protagonisti della serata. Anita sembrava essere destinata all'eliminazione durante il normale processo di votazione. Al contrario, Paolo Masella ha avuto un ruolo decisivo, non solo scegliendo il secondo eliminato, ma anche il terzo finalista, Massimiliano Varrese. Durante la votazione successiva, i fan online hanno notato che Marco Maddaloni ha deciso di salvare Paolo Masella e farlo avanzare alla finale, nonostante la presenza di Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese tra i nominati. Nonostante il voto di Maddaloni a suo favore, Paolo ha comunque dovuto lasciare la casa, a un passo dalla tanto agognata finale. Paoletti, come è conosciuto tra i suoi fan, ha dovuto dire addio al Grande Fratello e al sogno di raggiungere la finale, nonostante la fiducia nel suo pubblico. Dopo la diretta, Maddaloni ha condiviso una storia su social media in cui era in videochiamata con Paolo. Ora resta da vedere come Letizia Petris affronterà questa settimana senza la presenza di Paolo, e soprattutto come Alessio Falsone trascorrerà la settimana senza la sua nita. Cosa ne pensate di questi sviluppi?